I fattori che mettono a rischio la natalità riguardano moltissimo le pari opportunità. È importante che il mio ministero si chiami pari opportunità famiglia e natalità perché sono tre elementi strettamente collegati che disegnano proprio un programma di governo. Quindi noi vogliamo agire attraverso tutti i provvedimenti per sostenere il lavoro femminile, la conciliazione tra vita e lavoro, l'armonizzazione tra vita e lavoro e quindi creare un ambiente di lavoro favorevole alla maternità e alla paternità e ovviamente anche sostenere la famiglia attraverso tutti i provvedimenti considerando come fondamentale il criterio dei figli.